Non c'è un'alzata che non può essere un'alzata, avete capito? E non voglio vedere nessuno che si lavora. Brava! Grazie! Grazie! Prima la risolvo, cioè come sbagliare altre ricezioni, prima si risolve, poi si può dire guarda se puoi darmela così, non c'è motivo, nessuna palla può essere sbagliata. Quindi si gioca, si continua giocando, comunicate molto sulla ricezione mia, ma è importantissima la Palavola. Io non l'ho mai visto mai, intanto faccio dei camp e vedo la Palavola, mi sembra che non parla, no, la Palavola è fondamentale. Poi divertimento. Grazie! Grazie!